altro che petardi li farò ma siccome ho un progetto che vi svelerò a tempo debito per ora non li devo né colorare più e né tagliare li devo lasciare in un determinato modo con tanto di crescitazzo stra bianco strisce di puzzola varie ed eventuali anzi di moffetta quindi mi tenete con i petardi io ci provo a essere seria e compita ma non ci riesco proviamo così apre il registro e conto le presenze che poi questi sono per vedere da lontano perché da vicino ci vedo benissimo e quindi siccome il feci quando ancora guidai guidavo ora non vedo più e stanno qua a prendere polvere ma veniamo a noi oggi storia del paranormale lady ghost e lady sadako salutano storia del paranormale ma non è storia antica non sono castelli non sono fantasmi non è o meglio fa i fantasmi ovviamente c'entrano ma non è la solita storia tratta dalla storia è storia del paranormale tratta dalla cronaca che cronaca una cronaca di pochi anni fa era il 2018 anzi per l'esattezza era agosto del 2018 quando il signor christopher lee watts denuncia la scomparsa di sua moglie incinta e delle sue due figlie denuncia la scomparsa della moglie shannon incinta del piccolo nikki lee watts che sarebbe dovuto arrivare e di bella e celeste watts rispettivamente due bambine di 4 e 3 anni dopo pochi giorni le indagini iniziano a concentrarsi su di lui gli inquirenti scoprono che lui aveva un amante e da lì iniziano a tartassarlo di domande a causa di alcuni testimoni che avevano visto spostarsi in punti strani compresa la la fabbrica e l'azienda dove lui lavorava fuori orario di lavoro decidono infine di prelevarlo e portarlo al commissariato per un interrogatorio vero e proprio chris watts così lo chiamavano gli amici continua a proferirsi innocente è in una saletta di discussione e sta rispondendo alle domande degli inquirenti della polizia in questa saletta si trova christopher lee watts due o tre agenti della polizia un tavolo in similciliegio rettangolare da ufficio con sei o otto sedie intorno la telecamera di sorveglianza che sta riprendendo tutta la conversazione le domande e lo pseudo interrogatorio e un televisore messo su un angolo e acceso su un canale qualsiasi della tv satellitare americana mentre chris sta continuando a proferire la sua innocenza a un certo punto nel televisore parte una reclame parte una pubblicità di una serie di netflix nella sigla di questa serie si vede sullo schermo una pancia con un feto e poco dopo un teschio che galleggia dentro a un olio o comunque una melma nera era una reclame era una pubblicità di american horror story nel filmato della videocamera di sorveglianza si nota che christopher lee watts in entrambi i frame quello dove si vede il bambino dentro a una placenta e quello dove si vede il teschio che galleggia in quest'olio scuro si volta ed è quasi agitato nel vedere le immagini viene momentaneamente rilasciato per essere nuovamente interrogato il 13 di agosto pochi giorni dopo stranamente cambia completamente la sua versione ammette tutto ammette di aver ucciso la moglie shannon per strangolamento ed aver anche ucciso le sue due figlie sia celeste e sia bella il movente è uno dei più classici e dei più stupidi stupidi tra virgolette aveva un amante peraltro ignara povera ragazza del fatto di tutto quello che chris aveva combinato lei era innocente non ne sapeva nulla sapeva che era sposato ma non conosceva nemmeno la moglie in questione chris già da parecchio tempo pensava a un modo per poter mollare la moglie e andare a stare con l'amante ma vedeva la moglie e le due figlie soprattutto le due figlie come delle zavorre da non riuscire a staccarsi quando venne a sapere che la moglie era incinta dal terzo figlio il panico di non riuscire più a lasciare quella famiglia con un nuovo figlio in arrivo e quella situazione e la voglia sempre più preponderante di andare a stare invece con l'amante del quale si era innamorato gli hanno fatto venire in mente l'idea appunto del triplice anzi quadruplo omicidio ha strangolato quindi la moglie dopodiché ha soffocato con i cuscini le due figlie le bambine sono state poi i corpi cadaveri delle bambine sono stati occultati all'interno di un barile di petrolio della ditta petrolifera per la quale chris tra l'altro lavorava e che peraltro lo licenziò immediatamente due giorni dopo aver saputo dell'interrogatorio dove lui si dichiarava colpevole mentre la moglie poco distante ma sempre nel terreno della ditta petrolifera venne nascosta in una fossa scavata apposta in principio chris si accusi auto accusò solamente della morte della morte della moglie dichiarando che lui aveva già chiesto la separazione il divorzio alla moglie e lei per fargli un dispetto perché non voleva essere lasciata aveva ucciso le due bambine lui nell'impeto di rabbia nell'aver visto l'omicidio delle sue figlie l'ha strangolata questa era la sua prima versione nella seconda versione invece ammette tutta la storia per come era realmente quindi che aveva ucciso prima la moglie lui stesso dopodiché le due figlie soffocandole appunto con i cuscini quello che ha di paranormale questa storia anche agli occhi degli inquirenti stessi che hanno seguito il caso e per il web si trova ancora anche il filmato ma ve lo metto anche qui in fine video il filmato di quando lui a un certo punto si sente quasi come se fosse chiamato da quella pubblicità che stava andando in onda per puro caso e che riprendeva appunto un feto e quindi ci si ricollega al bimbo mai nato che si sarebbe dovuto chiamare il nicky nicky lee watts e ci si ricollega in contemporanea con il teschio che galleggia dentro a dell'olio nero a del petrolio alle due bambine quasi come se in qualche modo i fantasmi dei suoi tre figli volessero fare pressione su di lui perché ammettesse grazie alla sua confessione però riuscì a scansare la pena di morte seppur in quello stato americano ci fosse ancora gli vendono in compenso dati cinque ergastoli un ergastolo per l'omicidio della moglie e un ergastolo per induzione all'aborto quindi alla non nascita e per occultamento di cadaveri mentre gli vennero a se che sarebbero stati scontati in contemporanea e poi gli vennero dati i tre ergastoli separati senza possibilità di buona condotta di libera uscita di cauzione attualmente infatti ancora agli arresti carcerari è un ergastolo per ogni figlio deceduto al di sotto dei 12 anni di età quindi un ergastolo per l'omicidio di bella un ergastolo per l'omicidio di celeste è un ergastolo per l'omicidio del piccolo nicchi che ancora non era neanche nato è una storia del paranormale non troppo lunga non si sa nemmeno se sia stato un evento paranormale questo o se sia stata semplicemente una casualità o ancora non si sa se gli inquirenti forse sapendo già qualcosa potrebbero avere architettato l'uscita in televisione proprio di quella pubblicità particolare della della serie di american horror story al momento notizie precise sull'evento che ha scatenato alla fine la confessione di christopher lee watts non ce ne sono ma credo che conferme non ce ne saranno mai quello che fa rientrare un po nella casistica comunque delle storie del paranormale anche questa tragica in qualche modo vicenda di cronaca americana è proprio il fatto che fino alla accorgersi di christopher di questa serie di questa reclame che stava apparendo in televisione lui continuava in perterrito a dichiararsi innocente dopo l'interrogatorio nel quale vide in maniera proprio furtiva tra l'altro poi vi farò vedere questo video dopo pochi giorni decise invece di dichiararsi colpevole e ammettere tutte le sue colpe accettando anche appunto alla fine e il verdetto dei cinque pergastoli io sono una che dice sempre che nulla accade per caso quindi se gli inquirenti avessero avuto un'idea così precisa se non altro di dove fossero i cadaveri delle delle bambine perché il teschio che galleggia nel petrolio in questi frame della pubblicità di americano horror story è talmente mirato che per fare di proposito un effetto del genere da far vedere al colpevole bisogna che sai già anche dove siano i corpi e tutto il resto ma se avessero trovato i corpi e tutto il resto nella ditta petrolifera dove lui lavorava nascosti imboscati due in una cisterna e una sotto terra voglio dire non avrebbero neanche avuto bisogno dell'interrogatorio con le prove alla mano quindi mi sembra forzata l'ipotesi che sia stata la polizia stessa inscenare tutta questa cosa va bene per un film ma non va bene nella realtà che peraltro hanno fatto poi anche mi pare un film sulla sulla vicenda ma non ne sono sicura è storia proprio recente perché è successo a fine nell'ultima parte del 2018 e invece il fatto che appunto nulla accade per caso come dico sempre il fatto che le entità e questo l'ho spiegato anche in altri video hanno una sempre maggiore capacità di utilizzare i nostri oggetti tecnologici quindi oggetti come la televisione oggetti come il cellulare il computer per vari motivi che non conosco neanche io di preciso hanno in qualche modo la possibilità di essere manipolati dai defunti e dalle altre entità questo a noi ci succede spessissimo ho testimonianze di amici di persone che stanno sui social e sui forum dove sono io che magari mi dicono pensavo tanto a quella persona e di botto alla radio è partita la canzone che era legata a noi qualsiasi persona che sia la nonna che sia l'ex marito che sia il fidanzato che sia compagno di scuola delle medie o la stessa classicissima televisione che si accende da sola che si spegne da sola che cambia canale da sola che è proprio il meno del meno il meno sforzo che un'entità possa fare quindi alla fine anche da come si vede nel filmato che ora poi cercherò di montare in finale di questo video noterete che c'è un qualcosa di strano anche perché non solo il fatto delle due immagini che richiamano la gravidanza e l'omicidio dentro del petrolio ma anche il fatto che lui sta rispondendo l'interrogatorio si agita parla fa e si volta il televisore sta dietro lui si volta a guardare le immagini di questo televisore che sta andando per gli affari suoi proprio solo nei momenti focali della situazione come quasi se qualcuno glielo facesse vedere di proposito quel pezzo di flash del monitor io sono convinta che qui zampino di defunto ci ci gioca tanti dicono la moglie che ha voluto vendetta per me non è neanche la moglie per me o uno dei tre figli o tutti e tre i bambini insieme in un accordo tra di loro è una storia che fa pensare e mi piaceva raccontarla poi estremamente moderna se masticate un po l'inglese si trovano anche in giro per il web articoli congetture e per esteso tutta la situazione i luoghi e via dicendo quindi comunque è una storia che ho verificato prima di parlarne perché talmente moderne ci sono talmente tante bufale in giro per il web che volevo un attimo prima dare un'occhiata bene prima di sparare sulla croce bianca detto questo ora monto se riesco quel pezzetto di video di cui vi parlavo e stasera è stata storia per il paranormale torno nell'oculo che ho dei lavori e delle cose da finire da sbrigare da fare ah sto impazzendo in effetti la pettinatura line stein un po ce l'ho vi ricordo che qua sotto tutti i link dei vari social dove mi trovate e un po più sotto tre o quattro degli invece millemila link che tengono in vendita i miei libri in tutto il mondo sia librerie fisiche sia librerie online sia in versione ebook sia in versione cartacea al momento dei nuovi testi sto lavorando a tre libri in contemporanea mi sento cali cali ciao ecco in questo momento vedete come si volta proprio nel frangente in cui appariva il feto e poi si rende conto dopo poco anche dello scheletro immerso nel nel petrolio nell'olio scuro nella melma nera il video è stato ripreso appunto da uno dei millemila che si trovano per il web nella versione americana originale qui fanno vedere l'effetto proprio in cui lui durante l'interrogatorio si volta e guarda per un attimo con la faccia sbiancata l'immagine del feto che appare nella reclame di american horror story dopodiché si riprende e torna a parlare dell'interrogatorio da qui mancheranno pochissimi giorni e lui si dichiarerà infine colpevole ok 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 ok